Ciao ragazzi sono Cino Kakuna ed oggi finalmente siamo qui con un nuovo video Beh, sono tornato da parecchio tempo perché ragazzi sono naturalmente in vacanza Ma andiamo avanti col video Beh, oggi ragazzi vi insegnerò sempre come cambiare la skin nei mob in Minecraft Però questa volta vanilla Senza programmi esterni come Blocklauncher oppure altro Come per esempio MCP Master Beh, prima di tutto ragazzi avremo bisogno di un app editor Che ci permetterà proprio di entrare proprio in Minecraft E andare a scovare cartelle come Assets, Image e poi Mob Per dove trovare i mob Ma prima di tutto dobbiamo scaricare la skin nel mob che dobbiamo cambiare Che oggi ragazzi cambierò più la skin nel guardieno visto con l'uscita della 0.90 Beh ragazzi, prima di tutto vi consiglierei un sito che si chiama minecraft.novaskin.mygallery Dove in questo sito potrete trovare naturalmente ogni skin, qualunque skin che volete Sia per il personaggio principale che sia per i mob, per gli altri mob Nel mentre li sta caricando e ci metterà un po' di tempo Aspettare che... No Beh ragazzi, come vedete qua oggi ti ho dato naturalmente i guardien Ah ragazzi, quando vi giterete naturalmente per cercare qualunque mob All'inizio non vi farà E qua succederà spesso Ma andiamo avanti Beh Qua vediamo le skin personalizzate di guardiani Questo è il Duffy Guardian Il Guardian più di preciso Beh, sinceramente mi piace ma non so, sono molte Una che ci pide di più Beh, io scelgo la Ice Guardian Infatti qualsiasi non è proprio i commenti Ma non ce ne frega niente Qua la segnalazione Oh ragazzi, ho cliccato Sbagliato Aspettare che... Ecco qua E invece li sta caricando e ci metterà molto tempo Beh ragazzi, che devo dire È abbastanza crearevole direi Beh, noi la scarichiamo Su download Che questo sito in realtà è per computer ma Anderebbe anche per Proprio per Pocket Edition E chiudiamo Aspettare che... Ecco qua Dopo aver scappato la skin Noi andiamo Su S-File Explorer Aspettare che Prendo naturalmente la cosa Siamo qua nella cartella con l'OAD Dove troviamo la nostra bella skin Che si chiama Ice Guardian.png Beh Molto simile alla tecnica di prima Cioè Per Block Launch Noi andiamo in ogni art Semplicemente in Guardian .png Ecco fatto Ora andiamo uscire S-File Explorer Aspettare che lo faccio E aprire App Editor Che per usarlo Noi andiamo ad andare Per cercare Per il file App di Minecraft Select App From App Beh, qua troviamo Tutte le nostre app Noi andiamo ad andare Proprio su Minecraft Pocket Edition Com.mojang.minecraft Beh ragazzi Qua apriamo Tre opzioni Common Edit Simple Edit E Fall Edit Cioè la versione completa Qui andate su Simple Edit E come vedete qua Apriano queste quattro cartelle Meta Inf Assets Lib RS Ma quella che ci interessa è proprio Assets Passetto Andiamo su Resource Pack Qua Andiamo su Vanilla Qua Su Image Ecco fatto Qua naturalmente Ci sono tutte le cartelle Dei items Noi andiamo ad andare Su Mob Qua Ecco fatto Beh ragazzi Normalmente qua troviamo Tutti Proprio Tutti i mob Di Minecraft 0.15.90 E qua c'è anche I NPC Beh Però non ce ne frega niente Ma molto interessante Di me Ma per ora non ce ne frega niente Comunque Come si va indietro Ecco qua Ecco ragazzi Ora modificare Naturalmente La skin Del guardiano Che è questa Dobbiamo andare Su Su quest'icona Cioè la prima Con la matita E col foglio Ecco fatto E ci perivano Proprio queste Quattro Proprio Questi quattro Questi quattro PNG Che qua Ti l'ho fatti Per cose mie Cioè per modificare La texture di un pollo E andiamo su Guardia.png Che ce lo salva qua Ecco fatto ragazzi È una La nostra Skin Salvata È bella impacchettata Ora Per Naturalmente Ragazzi Si creerà Una copia Di minecraft Quindi Andate su Saves Nel mentre Sta lavorando Working E beh Ragazzi È fatto Finalmente La copia Di minecraft Purtroppo Posso vedere La schermata Perché Naturalmente L'ho perso L'ho perso E quindi Come farei Beh ragazzi Prima di tutto Dopo che Dopo che Dopo quella schermata Working save Vi salva Una copia di minecraft Che si chiamerà Gen.app Infatti 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 vi dirà Proprio che L'applicazione È già È già Installata Ma quale Beh Parlo È l'originale Infatti Voi Quando vi Troverete Quella schermata Ci saranno Ben Qua Tre tasti Sotto Remove Install O Close Voi dovete andare Prima a rimuovere L'arsin originale Cioè Quella Quella senza modifiche Senza aver modificato La skin del guardiano E disinstallarla E poi installare Quella nuova Con lo guardiano Con la skin del guardiano Modificata Semplice Beh Voi lo vedrete lì Naturalmente Ora andremo a provare La nostra skin E ora ragazzi Andremo a provare Proprio Il guardiano Il nostro guardiano Modificato C'è il ghiaccio Ecco qua ragazzi Che devo dire La skin è fatta Molto bene Anche Sono impegnati Veramente a fare Questa skin Fatta molto bene Beh ragazzi Naturalmente Il video finisce qui Spero che vi sia piaciuto Iscrivetevi Se già l'avete fatto Lasciate un bel like Su questo video E beh ragazzi Cosa vi posso dire Ciao E alla prossima